Le donne devono capire se li voglio commentare io, non sono più intelligenti, sono più intelligenti, sono più intelligenti, sono più intelligenti, mentali, non sono più intelligenti, non sono più intelligenti, che stai male, oi è, e già ne ricomento che, che è il soggetto, a voi chi è, mi regolai, se io mi vanno fare, non vanno, però non vanno fare, e se tutti mi amare, per l'interfondo per l'interfondo è che che rivedo voglio fare feste come dico io e non come comando in giro e per quella storia I like to think you can e bucani adamo oia 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 oia